Siamo qui con Lello Pirone, allora due spettacoli quest'anno in cartellone all'agusteo? Beh, insomma, la terza edizione di Bentornata a Piedigrotta, 31 ottobre, è la terza edizione voluta dal compianto Francesco Caccavale, quindi noi riportiamo per il terzo anno consecutivo questa edizione di Bentornata a Piedigrotta. Un spettacolo collaudato che ha avuto un grande successo sia di pubblico che di critica, ritorneremo anche quest'anno. Dopodiché siamo in opzione nel cartellone agli abbonati con Simmenappa, la paesa Shusha. È uno spettacolo che cavalca, ovviamente, uno spettacolo come sempre ideato, pensato e voluto da Leonardo Ippolito e nello stile di Leonardo Ippolito c'è la canzone napoletana. Quindi la storia, l'evoluzione, quello che è successo dopo la Seconda Guerra Mondiale a Napoli, ha cambiato pelle, ovviamente la musica la racconta, racconta il cambio di pelle dei napoletani, di Napoli, per cui avremo questo escursus prendendo spunto da quello che nelle vie, dopo gli scugnizielli che avevano anche fatto le quattro giornate di Napoli, appunto, con gli americani, con l'occupazione americana, Simmenappa, la paesa prende spunto da questa frase che sembrava anche una canzonetta di poco conto buttata lì per, come dire, sconfiggere la tristezza e i dispiaceri della Seconda Guerra Mondiale, dei morti, invece poi diventò un grande pezzo musicale, una grande canzone riconosciuta e quindi da questo spunto viene fuori Simmenappa la paesa ed è un percorso canoro e non, perché come sempre voi sapete che io e la signora Natalia Cretella... che salutiamo? che salutiamo perché si sta godendo qualche vacanza, giustamente, allora ma tu Pepegno vai lì e io faccio anche le sue veci e niente, insieme a lei faremo sempre le parti comiche, sia in Bentornata a Piedigrotta, sia in Simmenappa la paesa, qui al Teatro Augusteo, quindi ci divertiremo insieme, anzi, voglio dire, io mi auguro che ci sia un grande gradimento di pubblico ed è per noi un piacere, un onore essere ospiti in questo meraviglioso teatro che considera il salotto di Napoli, teatralmente parlando, che dire... Vogliamo ricordare ancora le date, allora, sia del... Le date della Bentornata a Piedigrotta è l'ultimo sabato di settembre, la prima domenica di ottobre, mentre invece per quanto riguarda il Choucha, Simmenappa la paesa, c'è ancora da definire i nove giorni dell'opzione in abbonamento perché, voglio dire, c'è un problema organizzativo ma credo che in conferenza stampa si scioglierà anche questo dubbio. Io ringrazio tutti voi, come sempre squisiti e cari, ci vediamo qui al teatro. Ciao!